numero 5 ilakai professional mpk mini mkii è un controller midi adatto all'utilizzo per produzione musicale e live questo dispositivo compatto offre 25 tasti sensibili alla velocity un joystick a 4 vie un ingresso pedale e arpeggiator programmabile 8 pad retroilluminati dinamici e 16 pad virtuali con note repeat e full level oltre a ciò altre caratteristiche includono l'alimentazione usb tre modalità note control change e program change 8 manopole e di synth virtuali air music tech hybrid 3 e sony vox wobble oltre al software mpc essentials ilakai professional mpk mini mkii è leggero con le dimensioni di 318 x 181 x 44 mm e pesando 0,7 35 kg trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 l'arturia keystep è uno strumento ideale per le esibizioni dal vivo e il trasporto grazie alle sue dimensioni compatte al suo peso di appena 1,6 kg dotata di tasti slinky e di un aftertouch e velocity questa tastiera midi offre una grande versatilità di suoni permettendo agli utenti di accedere a vari parametri per ottenere l'esperienza sonora desiderata grazie al modo arpeggiator gli utenti sono in grado di scegliere tra up down note order double up down random exclusive la modalità sequencer permette la creazione di pattern fino a un massimo di 64 step e 8 note con la possibilità di memozzare tie legato e rest le funzioni di record play e stop rendono questa tastiera ideale per un uso intensivo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 la novation launch key 61 è un completo controller musicale realizzato con il proposito di facilitare le esibizioni live e renderla più fluida la gestione dei suoni sintetizzati in tempo reale progettata per offrire una piena accessibilità alle varie funzionalità della dia w grazie ai 61 tasti dinamici 16 drum pad sensibili alla velocity integrazione con hardware software mac pc ed ipad due pulsanti transpose ottava display led a 7 segmenti e molti altri controlli l'interfaccia è pensata per essere intuitiva e dal tempo stesso versatile trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 la m audio hammer 88 offre un'esperienza professionale e versatile a musicisti studenti e produttori di musica l'utilizzo di tasti pesati che simulano la sensazione di un pianoforte unite alle varie funzionalità garantisce un'esecuzione armoniosa la connessione e compatibilità con pc e mac è nativa e non richiede l'installazione di driver l'alimentazione usb comporta maggiore praticità senza la necessità di collegare trasformatori all'acquisto sia pure l'inclusione di avid pro tools versione first più plug in event lite e vari ingressi per la pedaliera espressione soft e sustain il hammer 88 pesa 17,5 kg e da dimensioni di 302 x 127 x 1420 mm la camera connection kit da acquistare a parte fornirà l'opportunità di suonare con le app più diffuse per i dispositivi ios in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 1 studio logic numa compact 2 x è una tastiera midi e pianoforte digitale pensata per professionisti offre una prestazione di alto livello combinando funzionalità adatte alla produzione musicale in studio e all'utilizzo live la tastiera garantisce 88 tasti semi pesati e 9 slider programmabili a piacimento che possono essere impiegati come draw bars di controllo o per inviare segnali midi alla do con il generatore sonoro sledge poi è possibile creare un'ampia gamma di suoni sintetizzati utilizzando la fornita libreria di forma d'onda inoltre numa compact 2 x mette a disposizione dell'utente un amplificatore integrato compatibile con tablet o computer per un notevole risparmio di spazio trovi il link di questo articolo in descrizione risparmio di spazio trovi il link di questo articolo in descrizione